ben ritrovati oggi vi presentiamo una figura davvero molto particolare germana sommaruga una donna forte coraggiosa molto ricca di idee di spiritualità di concretezza anche e lo facciamo con anna frattini un membro dell'istituto secolare missionarie degli infermi cristo speranza è ben ritrovata anna che viene da milano grazie per essere qui con noi a parlarci di germana sommaruga chi era germana germana è una donna che è vissuta proprio a cavallo tra le due guerre ricorre adesso il 25 maggio cent'anni dalla sua nascita è stata un profeta di una visione di chiesa di laicato di donna di attenzione al mondo della sofferenza pur vivendo tutto questo in una modalità di persona normale e secondo me la più grande la realtà più grande è proprio quella di aver coniugato l'essere una donna qualunque con una visione profetica del mondo le ha anticipato i tempi è un istituto di laiche consacrate quello che ha fondato in tempi molto proprio agli inizi del novecento l'idea è venuta nel 1936 l'idea dunque germana è appunto nata nel 14 e ha avuto fin da piccola il desiderio di donarsi ai sofferenti ma l'incontro sconvolgente per la sua vita è stato l'incontro con san camillo e con questo suo desiderio ha pensato di orientarsi verso la vita religiosa camigliana in realtà poi quasi immediatamente cioè neanche due mesi dopo che aveva fatto questa scelta ha avuto quella che lei chiama la prima idea l'idea sconvolgente della sua vita cioè che per servire i malati e per essere una presenza d'amore non era necessario essere religiosa ma vivere come tutti donando pienamente la vita per i sofferenti e questa prima idea è stata poi del 36 non era assolutamente aderente a quello che la chiesa stava vivendo in quei tempi perché soltanto nel 47 la chiesa riconoscerà che anche i laici possono essere consacrati senza cambiare la loro realtà di laici diciamo che erano tempi in cui si diventava suora si diventava frate insomma la via religiosa era l'unica riconosciuta ecco questa sua intuizione è stata molto è stata molto forte dentro di lei e ha connotato un po tutta la sua vita l'istituto poi è nato nel 48 riconosciuto nel 48 come tale e si è abbastanza rapidamente diffuso proprio per questo suo specifico carisma di attenzione al mondo della sofferenza adesso lo approfondiamo questo carisma ma prima le volevo chiedere l'incontro con san camillo dell'ellis il fondatore dei camigliani vissuto nel 1500 è avvenuto attraverso una biografia di questo santo quando lei aveva 17 anni la mamma le ha regalato per i 17 anni questo libro di san camillo scritto da padre giovanni è stato folgorante per lei e quello che ha sempre stupito anche me e che le sono stata abbastanza vicino proprio questo sentire san camillo non un modello qualcuno a cui guardare ma proprio un fratello qualcuno che vive esattamente le stesse gli stessi sentimenti germana ha sempre vissuto è nata tra l'altro lo stesso giorno di san camillo a distanza di secoli germana non ha mai parlato per esempio del momento appunto della prima idea che deve essere stato veramente un momento mistico di incontro col signore come del resto san camillo non ha mai parlato di quando il crucifisso ha staccato il braccio per dirgli mettiti pusillanime a fondare qualche cosa ecco come san camillo ha sofferto tantissimo di questa artrosi deformante che germana ha proprio portato tutta la vita ecco come san camillo credo credo che abbia sofferto tantissimo per la nostra poca dedizione ai malati come san camillo richiamava sempre i suoi religiosi a donarsi di più a dare la vita pienamente ecco credo c'erano tante somiglianze che tra l'altro sono descritte in questa ci sono diverse biografie della sommaruga questa che ha scritto lei anna frattini con lorenzo moser è molto breve sintetica agile però completa nello stesso tempo per avvicinarsi un primo avvicinamento no a questa figura così affascinante che lei ha conosciuto per tanto tempo dal 1963 al 1995 fino alla morte cosa voleva dire stare a fianco della sommaruga una donna qualunque come lei definita io l'ho definita ho trovato secondo me questa definizione di la profezia di una donna qualunque proprio perché germana sempre vissuto come una donna qualunque fino a quando era in ospedale e è venuto il cardinale da roma a salutarla e tutti erano stupiti perché in ospedale la conoscevano proprio come una persona talmente semplice talmente normale che nessuno si aspettava che avesse delle come dire conoscenze altolocate non solo conoscenze ma delle ricchezze così profonde ecco però quello che a me sembra importante in questo essere una persona qualunque è che lei non è non lo faceva per diciamo una sciocca umiltà per dire a io non valgo a io non sono ma proprio perché se il suo il punto di riferimento è gesù cristo nessuno può ritenersi qualcuno ma tutti siamo in cammino alla ricerca di assomigliare il più possibile a questo amore che si grande e questo è stato il proprio il messaggio fondamentale di germana ecco mettersi a fianco di chiunque per far sorgere da chiunque quello che il signore ha posto dentro e in questa logica l'istituto che è nato come missionarie degli infermi è diventato poi missionarie degli infermi cristo speranza perché germana ha messo a fuoco costantemente questa speranza che non è una vaga speranza di qualche cosa ma è cristo speranza che dà luce alla vita del laico che dà luce alla sofferenza che dà luce alle realtà sociali perché tutto può essere letto in questa chiave di speranza perché il padre è dentro nella vita del mondo infatti una frase di germana che io ricordo molto spesso è io ho sempre messo cercato di mettere la mia mano nella grande mano che ci guida ecco questa visione di speranza che invade tutto il mondo e tutta la realtà e tutti gli uomini ecco questo abbandono questa fiducia in cristo diciamo la portata a seguire una via molto precisa all'interno della chiesa ma immagino che ci saranno state tante difficoltà forse qualche incomprensione agli inizi soprattutto dal 36 al 47 quando la chiesa ha poi riconosciuto questo cammino più volte si è sentita dare della pazza si è sentita dare della della giovane esuberante ecco ma altre tante volte è stata riconosciuta come qualcuno come un padre che gli ha detto chi va avanti deve saper portare la croce poi dopo il 47 quando la chiesa approvato ugualmente ci sono state molte difficoltà perché pur nella profezia della chiesa che ha riconosciuto gli istituti secolari la visione era sempre molto legata alla vita religiosa per cui ricordo quando lei diceva che si è presentata un certo cardinale a cui da cui era stata mandata gli hanno detto ma la cuffietta l'avete ma come ecco perché comunque si pensa alla vita secolare ma in realtà ci si continuamente ci si rifà alla vita religiosa mentre germana diceva la nostra è una realtà totalmente diversa proprio perché secolare non è il non avere il vestito non è l'abitare con gli altri non è lavorare con gli altri ma è un modo di guardare il mondo di guardare la chiesa di guardare i problemi secolare è un'attitudine interiore profonda che permette uno sguardo diverso della realtà ecco tra l'altro lei e questo stare nel mondo lo visse da vicino perché dopo la laurea in lettere insegnò per tanto tempo nella scuola ha sempre insegnato nella scuola media e vivendo proprio anche la professione come servizio perché giustamente un secolare prima di tutto un laico prima di tutto l'altro ieri c'è stato il discorso del papa ai membri degli istituti secolari proprio sabato e ha battuto anche lui sulla professionalità cioè la cui la competenza l'essere davvero essere nel mondo per il bene comune sentirsi membri veramente del mondo non il mondo e noi noi siamo mondo ecco questo suo essere nel mondo poi lo visse anche con questa sua preparazione molto approfondita a livello culturale spirituale con tanti scritti lei scrisse molte biografie di san camillo dell'ellis e questa diciamo che un po l'ultima edizione no pubblicata era insieme con gli scritti di padre angelo brusco ma poi ce ne sono tante altre e scrisse anche fece molte conferenze ma anche tenne degli esercizi spirituali per sacerdoti sì ecco scrisse molto su san camillo a tutti i livelli cioè lei voleva che il messaggio arrivasse a chiunque ai giovani con parole semplici ai professori scrisse le trascrisse in lingua corrente diciamo gli scritti di san camillo che erano appunto datati del 1500 per gli studiosi la sua tesi di laurea fu proprio la nuova scuola di carità di san camillo nella trasformazione anche dell'ambiente ospedaliero ecco questo per il versante di san camillo però scrisse moltissimo sull'aicato per esempio per l'opera della regalità scrisse la vita di preghiera nel mondo che appunto è una preghiera secolare che non va a orari o a modalità rigide ma che tutta la vita deve essere preghiera e contemplazione scrisse i consigli evangelici vissuti nel mondo scrisse i valori i valori del laicato e i valori della consacrazione secolare somiglianze e differenze ecco fece questo corso di esercizi ai sacerdoti di una diocesi perché il vescovo aveva sentito il desiderio che i suoi preti si dedicassero di più a chi aveva bisogno e quindi insomma molto attuale il suo messaggio devo dire innanzitutto però siccome ci stiamo avviando a conclusione io devo farle delle altre domande innanzitutto lei aveva il desiderio di andare a curare i lebrosi da piccolina non lo fece direttamente però poi di fatto l'istituto si è diffuso nel mondo addirittura in quattordici paesi in che modo allora sia per missionarie che hanno sentito l'esigenza missionarie cioè inserare degli infermi cristo speranza che hanno sentito la chiamata a una missionarietà più diretta e quindi sono andati in paese di missioni quando ancora questo questo pensiero non era così diffuso perché oggi che ci si sposta con gli aerei che ci si sposta facilmente ci sono tanti laici che si che vanno a fare questi servizi ma le prime sono partite nel 63 per un lebrosario del brasile e hanno continuato questo servizio per decine di anni fino a che il lebrosario fu in grado di essere assunto da religiose locali ecco cioè sempre e allora alcune si si affida alle forze locali cioè sempre più là dove c'è bisogno e poi fare in modo che tutto passi diciamo nel normale nella vita di tutti i giorni ecco questo e ci sono state missionarie in brasile ci sono state missionarie a formosa eccetera però la missionarietà specifica che germana sentiva profondamente era che questa modalità di vivere il laicato e l'attenzione ai sofferenti si spandesse nei diversi nelle diverse chiese locali quindi l'universalità del messaggio di camillo e delle missionarie degli infermi diventasse patrimonio della chiesa universale e in questo senso appena c'era un minimo richiamo di qualcuno che diceva fatevi presenti germana partiva io ero presente per esempio ancora adesso lavoro in camerun per questa per questo servizio ero presente quando arrivò una lettera di un vescovo del camerun che aveva letto un articolo di germana su vi consacré perché germana parlava benissimo francese e scriveva anche per vi consacré francese aveva letto questo articolo in cui si parlava di consacrazione secolare per i sofferenti e le diceva se poteva andare per testimoniare questa cosa ecco io mi ricordo finito di leggere se alzate ha detto io parto immediato infatti vabbè germana era chiamata la signorina subito fin da che era ragazzina ecco e poi siamo andati insieme in camerun ha presentato questa vocazione ai sacerdoti ha presentato questa vocazione alle giovani sempre lanciando lanciando semi buttando le idee perché non siamo noi che come dire che convinciamo il seme dentro nel cuore delle persone e quando sentono che questo seme vuole fiorire capiscono la vocazione ecco siamo proprio in chiusura però le devo fare altre due domande brevemente la prima è in corso il processo di beatificazione di germana sommaruga a che punto siamo è quasi concluso il processo diocesano nella diocesi di verona di verona e per cui poi verrà mandato tutto il materiale a roma e la cosa procederà ecco è stato lungo perché proprio ha scritto talmente tanto che l'analisi della commissione storica e della commissione teologica ha avuto un grossissimo lavoro ecco volevo aggiungere a proposito della diffusione che germana non ha mai voluto chiudere tutto solo sull'istituto come vita consacrata ma ha sempre desiderato che il messaggio si spandesse il più largo possibile per cui a fianco dell'istituto ci sono le collaboratrici cristo speranza che sono donne laiche che che si impegnano nella missione e nella spiritualità di speranza e ci sono anche le famiglie le comunità familiari cristo speranza che in quanto coppia desiderano vivere questa spiritualità ma poi ha fondato il camps cioè un'associazione per tutti e cioè il suo sguardo era veramente universale allora anna frattini della somaruga potremmo parlare per due ore credo senza nessun problema è veramente ha dato una testimonianza di come la presenza della donna nella chiesa possa veramente illuminare cammini nuovi in un messaggio che sempre quello evangelico di duemila anni fa no possa portare la novità del vangelo nell'attualità della vita che ci circonda in chiusura 100 anni dalla nascita l'istituto oggi come porta avanti questo messaggio e lo porta avanti esattamente come l'abbiamo come come germana l'ha desiderato cioè essere persone inserite ciascuna nel suo mondo nella sua professione nella sua realtà di vita per portare lì dentro il lievito del vangelo il sale della speranza e l'amore verso i sofferenti allora questo è un bel compito è che dovete portare avanti ancora per tanti anni e allora con questo auspicio con questo bellissimo messaggio la ringrazio per questa intervista invitando gli ascoltatori tutti voi che ci avete seguito da casa ad approfondire una figura così ricca di spiritualità nel cristianesimo attraverso le biografie che ci sono grazie allora per averci reso ancora più viva la figura di germana sommaruga e grazie a voi per averci seguito da casa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti